Torna transitabile ai pedoni il ponte Eiffel sul Mallero che lunedì sarà riaperto anche alle auto. Iniziato nelle scorse settimane si sta completando in questi giorni lo smantellamento del cantiere. L'intervento si è concluso e ha restituito alla città un ponte in perfette condizioni che potrà continuare a svolgere la sua funzione di snodo importante del traffico cittadino anche per gli anni a venire, sottolinea il sindaco Marco Scaramellini. I lavori di riqualificazione hanno permesso di consolidare la struttura del ponte che presentava preoccupanti segnali di degrado e di sistemare il fondo stradale e i passaggi pedonali. Le criticità, in parte ben visibili e in parte evidenziate dallo studio che avevamo commissionato nel 2018 a una società specializzata, sono state risolte e l'obiettivo che c'eravamo posti di garantire la sicurezza di chi vi transita è stato raggiunto. Realizzato nel 1935, il ponte è costituito da una corsia centrale carrabile e da due marciapiedi. L'intervento di manutenzione, per un costo di 335 mila euro, è stato eseguito nel pieno rispetto del progetto originario. Era stato programmato tra la fine dell'inverno e la primavera, in concomitanza con il periodo di minore portata del Mallero, secondo quanto prescritto dalla regione Lombardia, che aveva autorizzato l'allestimento del ponteggio nell'alveo del torrente.